Iiiiisee! L'uomo sapiente non è né un indovino, né tutto nemmo, ma colui che ama la vita. E come Aristotele crede che la tua voce dimostra chiaramente il punto nello studio delle cause e nella successione del fenomeno. Certo non approvo Aristotele in tutte le sue parti perché sono passati quasi duemila anni dalla sua morte e la scienza dell'uomo è assai propria vita, ma quanto alla ricerca della verità ripeterò più in futuro ciò che ho detto su Sia Sia Sia. Sia Sia Sia